Buonasera a tutti, oggi ho come ospite la nostra flugblogger del mondo dell'universo d'eterno e gli farò pulire il salmone. Facciamo una cosa particolare, un panino col salmone. Sì vabbè manco tu lo fai così. E adesso andiamo in padella. Adesso andiamo in padella. Vale ovunque. No, poco eh. Perfetto. Versa viola, cavolo bianco, pomodorini. Verdura pronta. No, ho fatto pronta. Quando è così? Significa che è pronta no? No, puzza, debruciato. Perfetto. Questa parte prendi il panino, prendi tutto e vai. Oh, questa è proprio lenta. Adesso i miei tempi eh. Compongo. Sì, allora iniziamo. Versa viola. Bellissimo, così. E' il salmone. Quella viola? Giù, è certo. Pomodorini? Il tocco finale? Nessuno ha, ragazzi. E per finire? Ciale? Devo mangiare croccante. Bello forte? Perfetto. Fermo che lo andrà a assaggiare, è Umberto. Va bene, però se lo schiacci un pochetto la parola io ce l'ho. Bravo, vai. Ah, com'è? Mamma mia, mi sono sbrotolato tutto. Ciao.